Roma Feyenoord. Roma e i pieni di sicurezza vengono predisposti sulla base di informazioni che si hanno. Le informazioni che si hanno, vengono acquisite di volta in volta, anche qui è importante chi gioca la prima partita in casa. Chi la prima partita in trasferta è quello che accade. Così il capo della polizia è direttore generale della pubblica sicurezza. Lamberto Giannini, a margine dell'inaugurazione del primo safety point nell'area di servizio Casilina Hoogst nato dalla collaborazione tra autostrade e polizia di Stato. In vista del ritorno dei quarti di Europa League fra Roma e figli Nord. Giannini, collaboriamo con le autorità olandesi lo stesso Giannini sottolinea, in questo caso a Roma si giocherà al ritorno. Vedremo cosa accadrà all'andata, qui non ci sarà la vendita per i tifosi olandesi però. Come voi sapete, c'è la possibilità di spostarsi liberamente. Il capo della polizia aggiunge, adesso vedremo in collaborazione con le autorità olandesi di avere delle notizie che sicuramente ci permetteranno di fare dei servizi adeguati. Virgola